Per me questi diffusori sono nuovi, nel senso che li ho ascoltati ieri per la prima volta, quindi diciamo che li stiamo ascoltando insieme adesso. Questo è il modello A5 di Magico. La gamma A è la gamma entry level per Magico e il modello 5 è il più grande, quindi 5 altoparlanti, 3 vie, abbiamo questi 3 woofer, sono da 11 pollici, sospensione pneumatica come tutti i diffusori di Magico, struttura estremamente rigida, non il monoscocca di fibra di carbonio come la serie M, qui abbiamo una struttura in alluminio, 85 kg circa, questo è assolutamente non risonante. Abbinato al basso in sospensione pneumatica è interessante notare che dove il basso nella musica è contenuto, il risultato sarà contenuto. Ove è presente invece la profondità di modulazione, lo sentiremo con alcuni frammenti di musica per organo, dove la pedaliera dell'organo non fa solo un rumore, fa effettivamente delle note, il risultato è impressionante, impressionante. In termini di quantità sonora, il Magico è abbastanza nella versione medio alta della sensibilità, tenete presente la cubatura di quest'ambiente è abbastanza impegnativa, ma c'è anche la potenza in questo caso del finale Daniel D'Agostino, che sta proprio qui dietro questa persona. Proseguendo a ritroso sulla sorgente, il preamplificatore è il D'Agostino, quindi sorgente digitale e analogica nella loro, per così dire, massima espressione. Uno dei primi elementi sul quale vorrei così fare un veloce escursus, come sapete, anche per darci modo di ascoltare più cose, è quella del timbro, e cioè del colore. Lo sentiamo con un frammento di un pezzo settecentesco su strumenti originali, questo è Bach, e quindi è una formazione di archi, ma anche con la rifinitura timbrica e anche di colore, soprattutto della presenza di fiati, corni e oboi. Registrazione Decca, sentiamo.